Il PD nella sua totalità riunito in conferenza stampa all'emiciclo per dare conto delle cose fatte in questo anno con alla base però un processo di rinnovamento che si sta intraprendendo per creare un'alternativa al governo Marsilio. Un partito che dal 2019 secondo il segretario regionale Michele Fina è stato unito anche se nato nel 2007 da divisioni e conflittualità significative ma l'unità in sé non basta e dunque si è unito e rinnovato mettendo in campo nuovi dirigenti riorganizzando alcune strutture che consentono la partecipazione di donne giovani valorizzando alcune amministrazioni locali rimesso in ordine i conti. Alcuni risultati nel territorio perfina sono stati restituiti e l'anno 2023 inizia in piena fase congressuale bisogna capire insomma dove correggere la propria linea e come presentarsi di nuovo agli elettori e al paese. Dal congresso si otterrà un nuovo gruppo dirigente nazionale che abbia alcune caratteristiche però che sia più chiaro e netto nel rapporto con il paese che dia centralità ai territori e poi c'è il tema delle alleanze si deve ritornare a fare buone politiche di alleanze a livello nazionale perché a livello locale già si fa. Abbiamo messo in campo nuovi gruppi dirigenti che oggi dirigono il partito lo rappresentano le istituzioni e che sono sul fronte in particolare dei bisogni degli ultimi di quelli che sono ai margini in parlamento così come in regione dalla battaglia sul 110 a quella contro il caro energia. Credo che questa unità debba essere valorizzata in questa fase che si apre, che è una fase congressuale, avremo un nuovo segretario, una nuova segretaria, un nuovo gruppo dirigente nazionale, chiediamo che sia preservata l'esperienza del partito abruzzese, la sua unità, il suo rinnovamento che sia rilanciato e che sia sostenuto verso l'alternativa al governo Marsilio.